Ciao a tutti, eccomi tornata con una nuova ricetta, questa volta vi mostro come fare l'ammorbidente ed è veramente semplice da preparare in casa, vi corrono tre ingredienti che potete trovare al supermercato semplicemente. Vi occorre dell'acqua, dell'aceto bianco, quindi aceto di vino e balsamo per capelli, lo splendor è perfetto. Questa è la ricetta. Per prima cosa mettiamo l'aceto bianco, dopodiché dobbiamo aggiungerci il balsamo, io utilizzo lo splendor che potete trovare ovviamente tutti, quindi ho pensato a un balsamo che costasse poco e che soprattutto era facilmente reperibile. lo dobbiamo mettere quasi tutto, rimarrà pochissimo, vado ad aggiungerlo all'aceto e infine ci aggiungiamo l'acqua, mescolate per bene. Potete aggiungerci una fragranza, io per esempio scelgo borotalco e il nostro ammorbidente è pronto per essere utilizzato, si utilizza come un semplice ammorbidente, quindi un tappo come al solito. Fatemi sapere se lo fate, se vi è piaciuta la ricetta. Vi mando un grosso bacio, grazie per aver seguito il tutorial e alla prossima, ciao! Ciao!